A Uomini e Donne sta nascendo una nuova coppia. Nella puntata del 15 maggio tutto sarà più chiaro, infatti dalle anticipazioni è emerso qualcosa di veramente importante e significativo su due dei protagonisti del parterre Maria De Filippi potrebbe essere soddisfatta di questo nuovo obiettivo raggiunto, con loro che potrebbero essersi davvero innamorati Anche perché a Uomini e Donne in particolare lui ha preso una decisione fondamentale che fa pregustare la nascita della nuova coppia. Maria ha dato infatti la parola a questo volto del dating show di Canale 5, che ha annunciato una cosa molto rilevante E ha fatto il nome della donna che gli starebbe facendo perdere completamente la testa. Quindi, potrebbero fidanzarsi a brevissimo Uomini e Donne, sta nascendo una nuova coppia, di chi parliamo? Il sito La Nostrad fa fornito dettagli intriganti sulla puntata di Uomini e Donne del 15 maggio, che ci farà intuire che una nuova coppia sia ormai ad un passo dalla sua formazione Nonostante l'uomo in questione avesse iniziato il suo percorso televisivo puntando su un'altra dama, adesso le sue idee sono diventate chiarissime e punta solo una persona Parliamo del cavaliere Mario Verona, che dopo essere stato interessato a Cristina, ha deciso di virare altrove. Nell'appuntamento di Wed ha voluto eliminare due ragazze che volevano corteggiarlo e ha deciso di continuare la sua conoscenza solo con Milena Parisi Quindi, Mario e Milena potrebbero lasciare il programma insieme e diventare una vera coppia Ormai manca pochissimo alla fine di Wed, quindi capiremo la scelta definitiva di Mario e Milena, che poi potrebbero volersi vivere la loro eventuale storia fuori dai riflettori